Questo aggiornamento Eh vabbè Dai per lo meno sembra andare fuori Mi hai battuto l'altra volta io l'ho fatto ottici Io no Lancia Adesso dovrebbe andare Non so è andato via ha mandato le connessioni in corso Oh putt è nulla vabbè Ma avrà controllato la finanza cosa appunto non lo so Ma che era l'ultimo Eh vabbè Ma running 2 lo usi? Cosa l'ho fatto Oh Come hai fatto a far gioco? Ma ne era troppo lontano Per far gioco Va benissimo dove ci sono io qua Cioè Ma che schifo Mamma mia Piuttosto Adesso mando un bacio a Vanessa da parte mia Piuttosto a me Eh vabbè veri si Eh vabbè Va bene Va bene Va bene Tu go war Va bene adesso no? Ma che è tu go war? No No Col cazzo che mi venete usare amici No Questa settimana mi trovava totalmente tanto I ragazzi siamo arrivati qua Prima che lì fosse in casa Perché era ancora in macchina Quindi mia mamma Cioè era a centro commerciale Con la macchina Quindi abbiamo dovuto aspettare Eh? No Per farmi capire Ma cosa devo commentare Che sei una merda Fammi la merda Lui non sa punire Solo per quello Ma sta merda Era un elettrico Non ti è venuto Dai Stimi il sub del cazzo Comunque ricevo Mi sono allenato Mi sono allenato talmente tanto Che la macchina Cioè che la postazione Era ancora in macchina Da domenica E la macchina Ce l'aveva mia mamma E quindi Vanessa è arrivata qua E Dico Abbiamo fatto un cazzo All'inizio Perché Non avevamo la postazione Uh l'arcobaleno Vanessa trottola Brava Ah Si Eh però fai la juggle Un'occasione Ti do per punirla Eh Non sei morto Ah Puniscila Oddio Vanessa che non sa finire le juggle Ok Qui Sono You Megatronica Ok Oh 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 How Sto svolazzo random Ah, punisci me la cazzo Trottola Che bello vedere un Devil Jinx tutto 55 Minchia, ho quanto fela Fela tutti gli elettrici e balleggia con l'uquale Porco dio, però 50-50 Minchia, non sta manco pul- Df3-2-3 O 3-2-4, com'è Vanessa? Tagliami di lo svolazzo Bello, brava Vanessa Sto bene, non so niente Oh, oh, oh Niente, niente Niente Dai, lo svolgono, il tag 6 Fa sia tipo meno 20 Con il tag generic Che monitor è preso Che monitor è preso Bravo 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 Che monitor è rispondi Cheuccesso Magistrale Che goal carry Che bound Finirà a t82-0 come al solito. Spero di no, però quando gioco davanti al pubblico devo per forza far vedere che sono debole, perché sennò poi in torneo la gente non mi sottovaluta, in torneo e non posso battere, perché si impegna, quindi devo per forza giocare debole, capito? Cioè le hai messo su dei tasti? Ho portato a dire, ho portato a dire, ho portato a dire, ho portato a dire, ho portato a dire free play e non mi vado a dare. Poi non gioco la domenica, però in frattis settimana potrei giocare almeno per imparare quel forza. Zuri! K.O. Round four, flight! 3 4 4 5 5 6 8 8 9 10 11 14 15 15 15 15 15 15 15 Se riesco da ora in poi streamo quello che è molto più figo di Tekken. Poi non ci gioca gente come Vanessa. Cioè hai punito una cosa on it Vanessa, brava. Hai punito una cosa on it, bravissimo. M***e non capisci un cazzo, vado. Ho detto hai punito una cosa on it perché lui ha fatto giù due on it. E tu l'hai punito col Team Fitton. E questo l'avessi punito. Ah no. Era pugito. Ma non è una m***a per voi. Non siete, cioè che si riesca a fare. Quello che sono un pro a LOL è un figlio. Ma faccio dire che LOL è una m***a. Cioè è l'unico gioco che vuoi avere il cervello ma non devi avere sto dranno allenamento. Cioè mentre il Dota è troppo 10 volte più complicato, non è sì complicato un minimo da subire. Eeeh... Cioè... Che si può fare? Cioè nel senso anche se giochi poco non ce la fai a giocare bene. Cioè il cervello non ce la fai. Rimane comunque un gioco complicato a livello di alto. Con quanto Dota però. Rziele这个 nella squadra. Riqui. 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 Eeee... Riqui. Dopo Vanessa ragazzi ci farà un tributo di shima indiresta, come un video tributo con anche gli effetti e la musica purtroppo. Ma non è scoperto giusto? No, no, no. No, no, no. Vieni, muori. Eh? No, perchè sono online. Ma to go war, ma chi sei? Ah Vanni, dobbiamo farci il video, l'hai letto? Non l'hai letto il forum? Perché Neans ti ha detto di fare il video che ho reso commentato. Non potevo, sei sempre al PC. Ma è su Tekken Italia. Cazzo se ne so io, beh, ne immagino. Invece ve ne dovrebbe fregare perchè sono troppo... ... 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 Che cazzo è successo? Che fa wow wow wow? Grande! Non riesce, non ce la fa, non ce la fa. E' il gioco d'attributo, non lo so. Dorea. C'è, Dorea. Dorea. Dio. Quanto sgrava quella mossa, cazzo? No. Eeeh, no, no, no. Quattordi. Ma è sembrato il mio. E' almeno quattordici. Cioè, almeno, con il clininho mi diceva meno quattordici. Se sto stronzo mi diceva ma... No, dai, minchia, no. No, mi pare meno quattordici. Sì, e non mi hanno messo testa di serie. Non mi hanno manco messo nei gironi. Perché vado direttamente in grand final io. E' il quattro aprile il torneo. Eeeh, io volevo andarci, però non c'ho soldi. Un buon periodo di merda per me. Se volete donare... Eeeh, meh, 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 meh. Almeno riesco a pagarmi in descrizione di tornei a Londra. Dove ci tenete tanto? Non mi posso vincere? Sperate! Potrei andare! Per favore! Sperate! Per favore! Sperate! 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 Tra l'altro è vero! Quando... Prendete i vostri Qt al lavoro, voi che lavorate, se lavorate, se siete con cazzisti andate a fare un piggere di merda! Se no... Nel Qt che potete specificare a chi donare l'IRP e flotto per mille... Due per mille eccetera... Tec in Milano! Tazzo! Tec in Milano e vieni! Capito! Easy! Cioè cazzo vi da dalla chiesa cattolica! Vai! Nooo! Amuro! Fai WS4! Perché poi li puoi sfruttare! Se... Se hai l'angolatura buona o splatti di resto... Vi devi fare QC F2 sempre! QC F2! Sì! Entra in qualsiasi caso! Qua... Usa WS3! Con Brian! Molto forte! C'ha 10 frame di morte! Porco down! SEMPRE! SEMPRE! Quanto va? Meno 14 quelle? Un... 12! Fai meno 14! Te vai in avanti! Dopo! Non è se inizia a parare due frame dopo! Ok! 3 di down! Cazzo... Veramente sono meno 12! Ehi! In torneo Potter! Dai! Menti! Vai ragazzi! Fate l'ultima poi entro io! Così almeno aumentano un po' i viewers! Sennò... E' già! E' già! E' già! Ma quanto cazzo è forte quella mossa di... Che mossa di merda il trottolino! Porca troia! Che mossa di merda! Puro? No! To the window! To the wall! Ah! Fai come le campo! F4 o D4? F4 o D4? Anche di WS4 entra! WS4 a muro entra! Che fai tutta la gioco completa! WS4 1... 1... 1... 1... 1... 3... 2! Il purple online dopo ragazzi! Ma poi non so se riesco perché se sto usando faster... Per sta cosa qua! Telecom di solito non riesco a giocare bene con te! Non so se mi è scappato per due online! Vedremo! Vedremo! Minchia che punizione a vuoto! Non voluta! Che wall carry! Qua non fa la jungle! Non ci credeva manco lei che è trago! Manco io! Certo! A2 lì! Un'orapeuta! Un'orapeuta! A2 lì! It's my time Dragon Ball Ryan Fury Dragon Ball Hey man, what is this What the fuck, how many things do you have? I need to be comfortable Non lo devo spammare, devo stare qui Oh Marco che scrive sul gruppo Dove trovo tutte le stagioni di Naruto? Risposta in negozio Di Andrea Tranchirol Tranchirol Stagioni di Naruto e filler Now she Cosa? Oh, stagioni di Naruto Ok, so stagioni di Naruto Ah, ok ok Non ci sono stranieri stasera Ok, ma scusa, devi aggiornare qua Cioè, adesso non so Eh, non ce ne devo Cambiare adesso Dai, mi piace Come on Ha 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 Come on Oh Round 2 Fight Come on Come on Come on Sì, guarda con un uomo, vieni, guarda con un uomo. Vieni, guarda con un arco, guarda con un uomo. Everything's good. It's all you got, guarda con un uomo. Guarda con un uomo. C'è Sousa? C'è Sousa? C'è Sousa? C'è Sousa? C'è Sousa? Siamo vicini alle mille visualizzazioni Ma in totale C'è Sousa? C'è Sousa? C'è Sousa? C'è Sousa? C'è Sousa? C'è Sousa C'è Sousa? Echòocca. Brambo. Vello VEDO sexistico. Fusci la la luce. Luce la 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 luce. Uhuh. get ready for the next battle oh che dica la gente è piena di guang qual è il filler di guang dp2 4-2 dp2 4-1 oh 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 Ah Va bene anche il pugnone Non è vero diciamo Figlia della tangosta Oh Ha 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 Beh, che presa Beh Vediamo 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 Oh Get ready for the next battle Round one The 셋 The two The two Grizzly Incherous You, 1 lier Oh! 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 Round 2 Flight Oh! 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 i 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 Così facciamo un rikigantio. Grazie. Ci sei? Eh, lo so, però... Vado! Yohane, manco fatto in te! Non vale! Cioè, perchè... ah, perchè è F2. E per caso anche. Tron! What? Mi senti... no, mi senti tutto male. Non lo so, non lo so. Non lo so, si! Non lo so, non lo so! Non lo so... Non lo so! Non lo so! Minca... Lo sapevo che arrivavo a fotoloping per quello! Cazzo! AAAAAH CHE MERDA DI MOSSA! Eh, questa... non me la facevo. Però non mi cazzo. Non volevo... Dio, cane! Vabbè, era un 4 normale, però ci stavamo spettando. Mi piace! Perchè è un plot? What? Eh, vabbè, quello non mostro. Benissimo! CASCATA! MADONNA! Madonna! Che credo, prima che ho alzato. Minta, ma che merda... Va a te! Va a te, io! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Ho perso tutto il rage! Eh, feffi! UUUUUU! DOO 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 VAAA! MA MAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGALA! È un azzeco una cosa inizio! Brava! Brava, ma... Brava, brava! Eh, non sai schifare! Cazzo muoio! Eh, non fai! Poi non riesco a farla giusto, no! È di qui! No, lì è veramente di qui, eh! Cioè non lo vincere È di gordo Gordo è gordo L'ho premuto dai me lo aspettavo No perché lo vinci Cogliona E poi gli officca anche te Cogliona Non è 14 a 0 oggi E un segna tanto poco Vanessa a casa Deathmatch a casa Trongario 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 Ho vinto una partita Ho vinto una bebe successo Non succederà mai più ragazzi Sto fermo io Non è che è il gioco che va avanti Screen Vado Bello Brava Vanessa Brava Vanessa Testa di nicchia Ma cazzo ma piglia l'alto Ho vinto una partita Non lo so Non è partita Minchina merda E vabbè Sì, baby No, baby Niente che incontro la morte Sai, che pareggia La bella che non lancia Perché io non ho le braccia così Ma vaffanculo, vaffanculo Eeeh Steve, ragazzi Steve King Steve Jaguar al porto del porto Porco daaaan Grava E' una che sbaglia Menchia non mi è partito Ma dai Ma che cazzo è No, ma ho fatto F1 più 2 e basta Cazzo Cazzo E' un po' di Cazzo 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 ma dai che mossa di merda onesto non dovrebbe crashare dai se sal ma non dovrebbe crashare è uguale uguale no ci metti vent'anni stivant stivant vabbè vabbè cazzo non so meno non caustare meno porco down si 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 ho visto la cascata cosa che senso che fai ma perchè non era counter scusa perchè non era counter adesso spiegamelo dai si ok erate si erate si 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 Porco, da un po' da vuoto! K.O. Round 4, FIGHT! 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 Sì C'è un po' che posso possare. Questa è difficile non lo so perchè ora che inizi che l'hai imparata non l'ha fatto non lo so non vedo che la paro dopo perchè ogni tanto la paro ogni tanto no ma donna non pensavo di essere entrato ma per chi è l'ho da dai lì l'ho fatta lunghe e questa con la funghiere che ho non lo so non lo so non lo so Ahhhh! No, 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 no. E' fuori, il turno è fuori, è zitta, è zitta Saluto, e non mi sono iscritto al Lions Dance perché Cazzo perché hanno scelto JDC al posto mio come ospite, ragazzi Io non pago viaggi, cioè, io merito di essere impiagato, cioè dai Purtroppo Purtroppo Ah, bravo! Bravo! Non sapevo cosa fare! Oh, che riflessione, stasera! Oh, che riflessione. Ah, cazzo! Ah, cazzo! Che riflessione! Che riflessione! Non mi si è fissato! Cazzo che è fissuto! Ho trovato a terra, non l'ho fatto cosi ma... Ho usato l'User Love Kills, lo fermo da sera... ...un po' ...uncchiato il pietro... What? Eh, non fia... ...no... ...ma minchia... ...vip learn... ...naudo ... ... non avevo il superman perchè hai fatto la bomba con tu ma porca non 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 Ah, perciamco! Ah, perciamco! Ciao, sono salve! Ciao, ci sei due ai Barschi stasera! Sì, non è vero che il primo da solo sarà. Grazie a tutti. Nooo! Oddio. What? Ho finito! What the fuck? Oh, non mi è partito. Eh, ero, ero. Era troppo bene. Ero farlo. Impressionante cosa. Cosa impressionante. 3 a 2. 3 a 2. Oh, vabbè. Palle! Che è successo di aver vinto. Ogni volta aumentiamo. Non so. Non so. Che si tirata? Ma dai. Ma dai! Nicchia! Ma va a cagare! Che culo! Che culo! Parla anche! Che culo! Che culo! Bello! 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 Quanto cazzo? Che cuore? Che cuore! De' unghia! Minchia! Cioè, è un puito uno con uno cuo! Ma non ci credo! Scusami se non ci credo. Grazie a tutti.